da quando ha fatto la sua prima apparizione a the voice of the italy sore christina scuccia è la più attesa tutti aspettiamo di poterla riascoltare e così sarà il prossimo 16 di aprile la voce che ha sorpreso tutto il mondo ricordiamo infatti che il video della sua esibizione vanta più di 40 milioni di visualizzazioni la riascolteremo finalmente nell'interpretazione del brano girls just want to have a fan dell'indimenticabile cindy loper in sintonia con il suo coach jay hax dice di essere stata però un po titubante per la scelta di questa canzone ma poi è stato proprio lui a convincerla che il testo era invece più che appropriato e che manifestava come la figura della donna stesse cambiando tanto da potersi dedicare anche ad un sano divertimento suor cristina che ha sempre amato cantare da giovanissima voleva diventare una cantante appunto dice il signore mi ha portato qui per realizzare questo sogno secondo la sua volontà e dunque non ci resta che aspettare per applaudire la rivelazione e forse anche la vincitrice di the voice of italy 2014 14